Comincia a prendere corpo seriamente l'ipotesi della riapertura del Tribunale di Melfi. Anche la Regione Basilicata si sta muovendo. Presentato e approvato un emendamento. Sentiamo di che cosa si tratta direttamente dalla voce di colui che lo ha presentato, il consigliere Aurelio Pace. E in bilancio del Consiglio Generale Siciliano delle somme per la gestione delle spese ordinarie dei tribunali soppressi. Melfi è una ferita, è il tribunale intangibile che è stato invece cancellato. Il Consiglio regionale sull'emendamento mio e sull'impegno presso nell'Aggiunta regionale è pronto a mettere le somme per la gestione di questo tribunale e dire al Ministro della Giustizia, se vuoi rivederlo al 155 e riaprilo, io sono pronto a metterci le somme per la gestione. Che cosa deve fare? Che cosa può fare adesso la Regione Basilicata? Incalzare il Ministro della Giustizia. Nel contratto di governo c'è scritto che i tribunali soppressi devono essere ridiscussi. Sì, nel testo della 155 della Norma c'è una revisione triennale. Noi siamo convinti che le ragioni del Tribunale di Melfi esistano ancora e per questo ci batteremo. Per chiudere, i cittadini di Melfi, non solo l'avvocatura, ma i cittadini di Melfi, possono davvero sperare nell'area persona di questo tribunale? I cittadini di Melfi devono sperare che le istituzioni facciano tutto quello che hanno fatto. In passato non è stato così. Chi deve recuperare una credibilità anche politica sul tema del Tribunale di Melfi lo faccia adesso. Il Consiglio regionale ci ha messo la parte sua. Adesso tocca al Governo nazionale. Ringrazio il Consiglio dell'Ordine del Tribunale di Melfi per la responsabilità. I cittadini devono attenzionare il problema. È un loro interesse specifico.